Utilizzava l'approccio diretto per adescare le minorenne oppure il web, il social network, Facebook o anche il metodo di comunicazione Skype che dopo aver scaricato il relativo software sul computer permette di inviare gratuitamente messaggi, foto o video messaggi. Con questa accusa due giorni fa gli agenti del commissariato di polizia di Milazzo, coordinati del commissario Antonio Rugolo, hanno arrestato un 21enne di Milazzo. Tutto è scaturito da due mesi a questa parte da alcune segnalazioni che poi ne sono state approfondite dalla procura e dalla polizia. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina Maria Teresa Arena su richiesta del PM Alessia Giorgianni. Pesantissime le accuse a carico del giovane milazzese, tentata pornografia minorile aggravata, tentata corruzione di minorenne, tentati atti sessuali con minori di anni 14, adescamento continuato di minorenne, corruzione di minorenne, atti sessuali continuati con minori di 10 anni e pornografia minorile continuata in danno di tre minori di Milazzo ed altri in corso di identificazione. Le indagini infatti proseguono per verificare se ci sono altre persone coinvolte, bocche cucite dagli inquirenti che mantengono il più stretto riservo e non hanno dato ulteriori particolari sulla vicenda e si può comprendere vista l'entità dei reati e che soprattutto riguardano minori.